Subito va a cercare il problema. Partiamo con l'accordo quadro di oggi con gli inserimenti di 100 lavoratori, importante soprattutto per la rieducazione in settori strategici. Sì, ancora una volta si conferma la nostra volontà di utilizzare il personale al meglio in cooperazione con gli altri enti. L'abbiamo fatto in modo assolutamente innovativo e primi in Italia con la Polizia Provinciale, che altri volevano sopprimere e noi abbiamo valorizzato, mettendoli anche a disposizione dell'autorità giudiziaria, in questo caso a LSU, pure qui soprattutto con l'autorità giudiziaria, ma anche altri enti come comuni e scuole. Credo un segnale importante della generosità istituzionale del nostro personale e della nostra visione di collaborazione tra istituzioni, ognuno nell'ambito delle sue competenze e della sua autonomia. C'è stata un'approvazione anche del piano territoriale di coordinamento? Questa è un'altra notizia storica per la ex provincia che non l'aveva fatto, e per la città metropolitana che si presenta con una visione di pianificazione urbanistica a difesa del territorio veramente importante. Un piano che va a letto e va nella direzione della valorizzazione del nostro territorio nelle sue complessità e nelle sue diversità, dal mare all'entroterra. Lei, il signore, diceva le istituzioni che fanno squadra. Scusate. È un momento difficile sia per le carenze di risorse umane sia per le carenze di risorse economiche. Sì, è così. Le risorse economiche che ci dovrebbero dare non sono mai arrivate né ai comuni né al comune di Napoli, men che mai alla città metropolitana. Riforma epocale iniziata senza risorse. Le risorse umane ce le vogliono tagliare. Ricordiamo, la città metropolitana ha meno 30%. Noi abbiamo resistito, abbiamo mantenuto, abbiamo valorizzato. Stiamo diventando un modello. Un modello a prescindere dalle politiche economiche, tributarie e di finanza pubblica che portano a strangolare gli enti di prossimità. Gli enti di prossimità venderanno cara la pelle. Si difendono e fanno qualche contropiede. E cercano di vincere, chiaramente. Parlando degli atti vandalici, alle aggressioni ai pullman, ai conducenti dell'ANM, c'è la sospensione delle corteserali a Scampia? No, non è proprio così. Innanzitutto sta diventando intollerabile questa aggressione reiterata a lavoratori, lavoratrici e utenti. Quindi l'ho fatto l'altro giorno in prefettura, in una sede istituzionale, lo dico anche adesso pubblicamente. Lo dirò tra qualche giorno al Ministro dell'Interno. Insomma, ci vuole più attenzione sulla nostra città. Detto questo, io ho già parlato con ANM, ho detto che c'è una diversa modulazione del sistema di percorso, che però va rivisto. Io capisco le preoccupazioni dei lavoratori e lavoratrici, mi auguro che le forze dell'ordine sapranno garantire la sicurezza a tutti, in modo da ripristinare immediatamente l'originario percorso. Perché la mobilità è garantita, le persone sono garantite nel ritornare a casa, ma è il segnale che a me non piace. È il segnale che a me non piace perché non si deve mai arretrare. Però hanno ragione. Io trovo inaccettabile, e lo dico dati alla mano, che il governo continua, adesso anche sul tema della sicurezza, ad andare a due marce. Quando si deve tutelare l'Expo di Milano, si sono spostate addirittura forze dell'ordine da Napoli per portarle lì. Questo forse molti non lo sanno e adesso lo diciamo pubblicamente. Noi abbiamo l'Expo quotidiano, che è Napoli, ed è un Expo anche complicato, perché è fatto da omicidi di Camorra ed è fatta nello stesso tempo dalla città d'Italia che maggiormente cresce in termini turistici. La città culturalmente tra le più vive d'Italia in questo momento, una città piena di giovani e di energie. Il governo si ricordi che non può puntare sempre ed esclusivamente sulla generosità delle donne e gli uomini delle forze dell'ordine di Napoli che fanno un lavoro incredibile e straordinario. C'è bisogno di rinforzi. Questo è un compito precipuo dello Stato. Quindi basta passerelle, perché le passerelle non le vogliamo più vedere, oppure incontri più o meno inutili che hanno prodotto solo sterili polemiche, come la visita del Presidente Bindi. Si inizi finalmente a dare dei segnali efficaci e non solo d'immagine. Allora a quel punto siamo tutti quanti più tranquilli e lavoriamo tutti in condizione di maggiore serenità, soprattutto i cittadini che chiedono al Sindaco, che non ha nessuna competenza, lo voglio sottolineare, in materia di sicurezza, chiedono però al Sindaco più sicurezza. Allora il Sindaco che cosa fa? Da due anni lo dice nei luoghi deputati, che sono i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, fa delle proposte precise, perché sono anche un ex magistrato, trovo un riscontro importante nelle forze dell'ordine e nel prefetto di Napoli, che ringrazio per il lavoro enorme che fanno, trovo una sufficiente disattenzione ancora una volta su un tema delicato da parte del Governo centrale. Da più parti viene chiesto che la Polizia Municipale, non solo di questa città, venga investita di compiti ulteriori. Che ne pensa? Noi siamo sempre pronti alle sfide, purché non ci rilascino sempre e soli col cerino in mano. Faccio un esempio della Polizia Municipale, più o meno i numeri sono quelli, non vado alla precisione chirurgica. Due mila e quattrocento circa dovrebbe essere l'organico, ne abbiamo mille e sei. Noi da tempo abbiamo chiesto la possibilità di poter scorrere le graduatorie per immettere ad esempio nuovi poliziotti municipali che farebbero un gran bene alla nostra città e le maglie normative dei provvedimenti nazionali non consentono di fare questo, nonostante il nostro risanamento dei conti ci consentirebbe anche oggi di sostenere finanziariamente un'operazione di questo tipo. Quindi bene più poteri ai sindaci. Io per esempio auspicherei nella legge di riforma della sicurezza urbana che i sindaci possano avere più poteri, altrimenti oggi ci hanno solo responsabilità come una specie di parafulmine istituzionale che andiamo per strada. Oggi la gente, visto che abbiamo risolto molti problemi nella nostra città, la domanda ricorrente è la sicurezza, che guarda caso è un tema che non attiene alla competenza del sindaco. Allora credo che su questo debba fare chiarezza. Allo Stato la normativa dice che la sicurezza è compito prioritario ed esclusivo dello Stato. Poi se decideranno di cambiare, affidarci più possibilità di poteri, più coordinamento, più voce in capitolo, io ne sarei anche lieto perché portando anche l'esperienza personale di aver fatto 20 anni l'uomo delle istituzioni e 15 anni in prima linea, 9 in Calabria e 6 a Napoli a fare il magistrato e in particolare il pubblico ministero, io me la assumerei ben volentieri un ruolo maggiore. Sennò altrimenti oggi divento un organo consultivo. Cioè vado al comitato, il sindaco che cosa pensa? Il sindaco dice la sua opinione. Poi non spetta a me se quell'opinione si traduce in realtà, in azione concreta, in provvedimenti amministrativi, in disposizioni del Viminale o di altro. Grazie.